Cari amici, oggi dobbiamo comunicarvi decisioni importanti che riguardano il Covid e che riguardano ovviamente la nostra vita e quella delle nostre famiglie. Oggi siamo chiamati, oggi non domani, a prendere decisioni forti e definitive, forti, definitive, efficaci, per fare fronte ad una situazione che è diventata pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi in maniera insostenibile la situazione dell'epidemia. Per questo io ritengo che non ci sia più un'ora di tempo da perdere. E perfino l'ordinanza che entra in vigore oggi è già superata dai dati del contagio con i quali dobbiamo fare i conti. Io credo che dobbiamo decidere oggi, non domani, non fra una settimana, perché davvero non abbiamo più davanti tempo da perdere. Vi anticipo che io comunicherò al Governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto. Avevamo immarginato, ripeto, con l'ordinanza che entra in vigore oggi, una misura parziale, ma per i dati che abbiamo non basta più neanche questo. Dobbiamo decidere di chiudere tutto. Io dunque propongo lockdown per l'Italia, deciderà il Governo nella sua responsabilità, per la Campania faremo quello che riteniamo giusto per noi. Io credo che dobbiamo chiudere tutto, tranne le attività industriali, le attività agricole, le attività dell'edilizia, l'agroalimentare, le forniture agroalimentari, le cose che abbiamo già conosciuto a marzo, a febbraio, ad aprile, credo che dobbiamo bloccare la mobilità interregionale, credo che dobbiamo bloccare la mobilità fra comuni, cioè dobbiamo fare quello che abbiamo fatto a marzo, né più né meno, tentando di difendere per quanto possibile le attività produttive.